Non ci fu usura. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con il presidente Gaetano De Luca e i giudici a Latere, Guerra e Setta, nell'udienza di ieri è assolto dal reato di usura Giuseppe Mussari e Antonio Vigni, già presidente e direttore generale del Monte dei Paschi di Siena, perché il fatto non costituisce reato. Gli imputati erano accusati di aver praticato tassi usurai ad un imprenditore di Agropoli, Antonio Feola, che aveva denunciato i vertici del Monte dei Paschi di Siena in relazione al reato di usura, perché la filiale di Agropoli della medesima banca avrebbe riscosso dall'imprenditore nel 2006 un tasso effettivo globale medio del 34,61% nell'anno del 2007, un tag medio del 21,11%, nell'anno 2008 un tag medio del 21,39%. La difesa degli imputati, sostenuta dagli avvocati Enrico De Martino e Franco Maldonato, ha dimostrato nel corso del dibattimento che gli interessi praticati sul conto corrente bancario non hanno mai superato le soglie fissate trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e non hanno mai violato le istruzioni impratite dalla Banca d'Italia. La difesa, in ogni caso sostenuto, che la commissione di massimo scoperto anteriormente al 1 gennaio 2010 non entrava a far parte del tasso effettivo globale medio, perché pattuita anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 2 bis della legge 2009, con la quale il legislatore intese porre fine alle controversie relative alla cosiddetta usura sopravvenuta, quella cioè derivante dall'applicazione di condizioni regolari al momento della nascita del rapporto, ma che nel corso del rapporto stesso diventavano eccedentari rispetto alle pattuizioni. La sentenza del Tribunale nei confronti dei Monti dei Paschi di Siena fa seguito alla sentenza del giudice dell'udienza preliminare presso lo stesso Tribunale di Vallo nei confronti dei funzionari e degli impiegati della Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania.